Per questo nuovo episodio ho intervistato Stefania Garassini, scrittrice, giornalista e docente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Con lei ho cercato di ricostruire la storia di Virtual, una delle prime riviste italiane ad occuparsi di tecnologie immersive, e che Stefania ha fondato e diretto dal 1993 al 1998 e diventata negli anni punto di riferimento per tutti gli appassionati ed esperti del settore. Abbiamo parlato di come la rivista si è evoluta negli anni, di cosa voleva dire occuparsi di realtà virtuale nei primi anni 90 in Italia, del problema di essere troppo in anticipo sui tempi e di come il giornalismo dovrebbe trattare le tecnologie digitali alla luce del loro fortissimo impatto sulla nostra società. Nella descrizione del video vi lascio i link del sito web di Stefania e altre utili referenze. Buona visione! Ah, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Virtual nasce nel 1993, se non vado errato, e nasce come chiamato mensile di realtà virtuale immagini di sintesi. Questa era la, diciamo, il sottotitolo. Come mai nasce Virtual? Qual è, insomma, la sua, come potremmo dire, storia editoriale degli inizi? E come si inserisce all'interno di un clima, potremmo dire, intellettuale, sociale, eccetera, dell'epoca in Italia rispetto agli argomenti di cui poi va a trattare questa rivista? Sì, la rivista, come giustamente hai detto, è nata nel settembre del 93 e è nata in un momento in cui si cominciava a parlare di realtà virtuale, perché si cominciavano a vedere i primi sistemi, a immaginare questa manifestazione che si teneva ogni anno a Monte Carlo sulla computer graphics, erano arrivati i primi guanti per la realtà virtuale Data Globe e anche il casco Geron Lanier, che è stato il primo teorico, diciamo, che ha inventato il termine in realtà virtuale, già nell'86 aveva fatto una demo del Data Globe per toccare quindi oggetti virtuali. Quindi si cominciavano a vedere le prime tecnologie, quindi si cominciava a parlarne anche sui giornali, qualcosa usciva molto meno di adesso naturalmente, però si iniziava ad affrontare l'argomento di questo mondo che non si capiva bene come sarebbe stato, poi ovviamente allora la grafica era molto rudimentale, quindi in realtà quello che si vedeva poi era veramente, non c'è nessun tipo di paragone con quello che si vede adesso, quindi era l'idea però di essere in un mondo che reagiva, in cui ci si poteva muovere, dove la nostra presenza veniva rilevata, diciamo, e quindi noi potevamo interagire. Quindi questa idea qua si iniziava ad affermare. Insieme a questa poi in Italia in quegli anni c'era anche un movimento, potremmo dire, culturale legato alla, diciamo, alla potere che poteva avere la tecnologia di cambiare la situazione anche politica, anche culturale, sociale. Questo era un po', arrivava dagli Stati Uniti, dove tutta la ricerca sul personal computer aveva anche quest'anima un po', potremmo dire, di più sociale, più legata a un cambiamento che si sarebbe affermato grazie alla tecnologia. Quindi la tecnologia ci avrebbe aiutato a essere più liberi, ad avere più accesso alle informazioni, quindi pensiamo, non so, allo spot della Apple dell'84 quando ha lanciato il Macintosh era un po' tutta questa idea, no, della cultura, dell'utopia californiana che le macchine ci avrebbero aiutato a essere migliori. Quindi poi erano queste due anime, una tecnologica e una più culturale. Con Virtual volevamo proporci di, diciamo, dare un po' conto di questi due aspetti. Quello tecnologico però soltanto in funzione dei suoi impatti sulla società, quindi l'idea era non parlare di tecnologia in quanto tale, iniziavano a esserci già delle riviste che affrontavano la tecnologia, quindi il software, molto tecniche, ma parlare dell'impatto che questa tecnologia cominciava a avere sulla cultura. Peraltro era uscita da poco negli Stati Uniti, Wired, il primo numero di Wired era uscito anche quello nel 93 e l'idea era un po', diciamo, simile naturalmente, fatte le proporzioni, però l'idea era parlare non tanto di tecnologia ma di cultura, come cambia la nostra cultura, il nostro modo di vivere che impatto ha questa tecnologia sulla nostra vita. Infatti un servizio del primo numero di virtuale era la realtà virtuale cambierà la nostra vita? Quindi già, insomma, ci si poneva questa domanda e molti sistemi erano già presenti, si parlava già di realtà virtuale per i videogiochi, la SIG aveva presentato un casco, quindi c'era molto fermento e quindi l'idea era quella di cercare di essere un punto di riferimento di questo mondo che si stava muovendo molto e a cui, in tutto sommato, in cui c'erano tanti aspetti interessanti, appunto non soltanto quello tecnologico ma quello culturale, peraltro in quel momento stava nascendo anche, non è che stava nascendo, era già nata, ma si stava diffondendo internet, quindi si cominciava a parlare anche di quell'aspetto lì, delle comunità virtuali, come le aveva ribattezzate Reingold, questa idea di persone che si incontrano senza vedersi nella realtà ma in spazi virtuali, che allora sembrava qualcosa di, era qualcosa di mai visto, quindi aveva un aspetto molto di novità, quindi l'idea era... Come mai fondi questa rivista, cioè come si arriva, cosa facevi all'epoca? Sì, allora io avevo fatto una tesi, io sono laureata in filosofia e avevo fatto una tesi in comunicazioni sociali, perché avevo fatto l'indirizzo in comunicazioni sociali e il professore di allora, che era il professor Gianfranco Bettetini, che era diciamo una figura di spicco della semiotica, c'erano lui e Umberto Eco, diciamo semiotica dei media, stava scrivendo proprio in quel periodo un libro sul concetto di simulazione, l'immagine come simulazione e quindi mi aveva proposto di fare una tesi sul concetto di simulazione, l'immagine e di arrivare quindi a parlare anche della computer graphics, che allora, anche la computer graphics era agli albori, sì, esisteva già da un po', ma il tipo di immagini che vedevamo erano molto rudimentali, però aveva già qualcosa di novità, cioè il tipo di immagine, appunto il fatto di derivare da un modello, quindi di avere delle sue proprie caratteristiche di funzionamento, quindi non era piatta quella lì, è l'immagine, ma c'era dietro un mondo, no? Ecco, allora io avevo fatto questa tesi e proprio mentre scrivevo la tesi si iniziava a parlare di realtà virtuale, quindi io ho poi fatto un capitolo della tesi su questo, perché dalla simulazione, come appunto simulazione di un modello di realtà, alla possibilità di interagire con quel modello di realtà e di manipolarlo. Quindi da lì era un po' nato l'interesse per la realtà virtuale. In realtà io allora ero già giornalista e lavoravo insomma per periodi di sostituzione, di collaborazione alla redazione spettacoli del giornale, perché il mio sogno era fare la critica teatrale, che è un po' apparentemente lontano dalla realtà virtuale, ma in realtà non così tanto, perché appunto esplorando questo mondo grazie alla tesi mi sono anche resa conto che era un mondo non soltanto tecnologico, ma dove effettivamente entravano in gioco tante competenze più artistiche, più umanistiche, quindi in fondo anche se pensiamo a come è nata internet, non è stata solo fatta dai tecnologi, ma c'erano personaggi, psicologi, quindi in realtà in quel momento sulla tecnologia convergevano energie creative che arrivavano da tanti ambiti diversi, quindi era un mondo estremamente interessante e stimolante e quindi mi sono appassionata. Mio papà era editore e quindi mi ha detto ma se vuoi fare una rivista falla e quindi mi ha messo in questa stanza con un telefono, perché allora la posta elettronica non era ancora così diffusa, quindi ho chiamato tutte le persone che conoscevo e che sapevo che si occupavano di questo argomento in Italia, Antonio Caronia, Maria Grazia Mattei, altri universitari come Fausto Colombo, Maria Bettettini, stranieri che per esempio l'organizzatore di Imaginà aveva collaborato con noi Filippo Cheo per vari anni, aveva una rubrica, quindi ho cercato di prendere contatti con le persone che sapevo che avevano un po' questa stessa visione della tecnologia, cioè non soltanto descriviamo il prodotto ma cerchiamo di capire che cosa questo prodotto può, che impatto può avere sulla società e da lì ho cominciato a pubblicare questa rivista. Se non ho capito male usciva in edicola? Usciva in edicola ogni mese, ecco mi sono dimenticata di citare tra i collaboratori appunto parlavamo prima di Aaron Brancotti, grande esperto di realtà virtuale, di Diego Montefusco che era molto esperto di internet già allora e di realtà virtuale, quindi insomma varie professionalità e uscivamo sì in edicola ogni mese. Per quanti anni è durata insomma questa rivista se non mi sbaglio fino a cos'è? Al 98? Al 98, è uscita fino al 98 sì, sempre in edicola fino al 98. Da quello che ho capito informandomi un po' sulla storia della rivista è nata più che altro con questo grande focus diciamo proprio sulla realtà virtuale, il dibattito attorno però poi durante gli anni diciamo che si è un po' allargata come livello di interessi. Ecco, tra tutto quello che si è trattato come dire negli anni in questa rivista, quali sono stati non so gli argomenti, gli eventi che ti hanno non so più interessata, più coinvolta? Ma sicuramente abbiamo iniziato a occuparci di internet creando una pubblicazione interna a virtual che si chiamava Internet Café e che dava conto di quello che succedeva nel mondo della rete e riguardando dei numeri vecchi ho trovato, no, ma specie perché è un argomento molto attuale oggi, avevamo pubblicato su Internet Café un test per capire se eri dipendente da internet con varie domande tipo se devi rivolgerti a qualcuno cosa fai? Lo chiami? Gli mandi una mail? Lo contatti in chat? E già sembravano appunto, erano cose nuove e visto che oggi si parla molto di dipendenza, no? Ecco, già allora noi avevamo fatto questo test in cui chiedevamo se si era Internet dipendenti e no, questa è una cosa divertente, però no, l'inserto usciva sempre insieme alla rivista ed era stato uno dei primi anche lì punti dove si parlava della rete ma non tanto per capire come funzionava l'ultimo modello di modem ma per capire che cosa ci stava accadendo dentro, quindi non so, le prime, i veri prodromi dei social media, quindi le prime comunità virtuali, la rete civica di Milano, cioè davamo conto di tutte queste, di tutti questi diciamo progetti, iniziative che nascevano dentro alla rete. Poi un altro articolo molto interessante avevamo fatto sul concetto di ipertesto, no? Perché si parlava di, un dibattito che era molto presente era quello del passaggio dal testo lineare al testo non lineare, quindi l'ipertesto con i link e c'era un dibattito culturale su quello, cioè sull'idea di come si sarebbe potuto fare narrativa attraverso gli ipertesti. Ecco, avevamo fatto un'inchiesta su quello sentendo vari autori e cercando appunto di esplorare proprio le prospettive narrative che si combinano, si intrecciano molto poi con quelle dei videogiochi, quindi è possibile fare un ipertesto che non sia un videogioco ma che sia appassionante? Ecco, ci ponevamo questo tipo di domande. Poi c'erano approfondimenti su temi un po' più specifici come per esempio quello della medicina, l'applicazione della realtà virtuale ai progetti di telemedicina o la simulazione di operazioni che sono un po' i temi che tornano anche oggi quando si parla di realtà virtuale, anche la simulazione in architettura, quindi progetti anche molto innovativi, non so ce n'era stato uno di cui si era parlato molto di simulazione, di ricostruzione della basilica di San Francesco d'Assisi in cui era ricostruita in 3D, si poteva esplorare con la realtà virtuale anche se non con il casco ma sullo schermo e poi dentro ai quadri si poteva entrare perché poi c'era, ai quadri scusa, agli affreschi, si poteva entrare e all'interno si trovava un mondo che era ovviamente completamente ricostruito sulla base di quello che poteva essere questa città ideale ipotizzata da Giotto, quindi insomma davamo conto anche di questi progetti molto allora pionieristici, un altro di questo tipo era quello che consentiva di entrare nella tomba di Nefertari per cui non si poteva entrare in realtà perché si rovinava con l'accesso del pubblico e allora era ricostruita e si poteva visitare virtualmente, quindi avevamo questa attenzione un po' all'innovazione ai progetti che utilizzavano la realtà virtuale o la rete e poi gli aspetti invece più culturali di riflessione su che cosa però tutto questo avrebbe comportato, quindi appunto ho citato Antonio Caronia che aveva una rubrica il filosofo e la farfalla in cui appunto faceva delle riflessioni su questi temi e poi invece più specifici sul virtuale avevamo Filippo Cheo che scriveva una rubrica virtù e vertigini, c'era molto dibattito perché veramente si stava ancora cercando di capire quali sarebbero stati gli utilizzi della realtà virtuale, infatti io mi ricordo un anno al SIGRAF la realtà virtuale era stata definita una soluzione alla ricerca di un problema e in verità penso che forse sia ancora così in parte anche oggi, abbiamo una bellissima tecnologia, una bellissima soluzione ma qual è il problema che poi ci risolve e che nient'altro potrebbe risolverci, non lo so se sia chiaro neanche oggi. Però volevo fare un passo un po' indietro, ho visto che negli anni avete sperimentato un po' con varie tipologie di diciamo allegati, per esempio non so floppy disk o addirittura videocassette, a cosa servivano, cosa c'era, per cosa venivano utilizzati? Dunque allora un floppy che aveva avuto enorme successo l'avevamo allegato a uno dei primi numeri ed era un sistema, diciamo erano dei software per creare rudimentali ambienti di realtà virtuale, quella che si chiamava Garage Virtual Reality, c'era stato un libro di Linda Jacobson, una studiosa americana che affrontava proprio questo argomento della realtà virtuale da garage, cioè quella che ti puoi fare tu da solo con, ovviamente smanettando un po', ma insomma con dei software, quello lì fu un floppy che ebbe grande successo e poi avevamo a seguito di quello allegato dei floppy con contenuti collegati per esempio appunto a internet caffè, sistemi di cui parlavamo, brevi video e la videocassetta era un regalo per gli abbonati, in cui avevamo raccolto dei frammenti video che mostravano il funzionamento di alcuni sistemi particolarmente avanzati, quelli che ho detto prima appunto Giotto, la Basilica di San Francesco d'Assisi, la simulazione quella lì c'era, poi c'erano anche quei sistemi di intrattenimento in cui, video di sistemi di intrattenimento in cui tu per esempio eri in una stanza, diciamo in un cinema, dove però si muovevano le sedie e tu avevi la sensazione di essere immerso dentro a quello che succedeva sullo schermo, quindi c'era un video con dinosauri dove tu ti trovavi in quest'isola dei dinosauri e l'impressione era proprio di essere all'interno, quindi era appunto una panoramica di queste applicazioni. Ho dimenticato di citare l'aspetto dentro a virtual dell'attenzione all'arte, noi avevamo quattro sezioni e una era proprio specifica sull'arte, una era nell'occhio, diciamo uno era nuove frontiere, quella più sulla tecnologia, poi c'era progetti e ricerche quindi che approfondiva sulle applicazioni appunto medicina, architettura e poi avevamo invece mondi possibili e sogni condivisi, sogni condivisi era arte, spettacolo, effetti speciali, ecco un altro campo era quello degli effetti speciali, quando siamo usciti noi è uscito Jurassic Park che aveva aperto gli occhi del mondo su quello che si poteva fare con la tecnologia, con questi dinosauri che ritornavano a vivere, quindi c'era anche molta attenzione su questo fronte e sull'arte, quindi l'applicazione della tecnologia all'arte, noi seguivamo sempre il festival di Linza, Ars Electronica, quindi seguivamo molto anche gli aspetti più di sperimentazione artistica, sia internazionale che anche nazionale, quindi non so, artisti che venivano magari dal teatro e poi avevano sperimentato con la tecnologia come Giacomo Verde, avevamo dedicato a lui un articolo, poi tutto l'ambito più legato anche alla shake, quindi alla sperimentazione più un po' underground, ecco anche su questo ci eravamo presenti, quindi insomma avevamo anche una finestra sul mondo dell'arte e come dicevo dello spettacolo, degli effetti speciali. Beh noi avevamo le prime copertine, le aveva create Mario Canali che allora aveva questo gruppo Correnti Magnetiche che era stato uno dei primi gruppi di computer graphics con cui si cercava però di produrre delle opere artistiche non tanto funzionali a qualche comunicazione pubblicitaria, quindi era un po' l'idea alla base e in effetti Mario Canali aveva anche collaborato scrivendo in alcuni casi pezzi sulla sua attività artistica che poi si è aperta anche all'interazione negli anni seguenti, quindi insomma avevamo sicuramente un occhio su questo mondo della, come dici tu, dell'arte tecnologica in Italia che non era affatto, cioè non era affatto inerte anzi, quello che succedeva negli Stati Uniti ovviamente era un po' più avanti però noi eravamo a ruota. E poi scusa ti dico solo, dopo il primo periodo un altro artista ha fatto le copertine, Marco Cadioli, insieme a un suo collaboratore Luigi De Aloisio che si occupa dell'aspetto più tecnico e Marco Cadioli è tuttora un artista che lavora nel campo della net art, che ha realizzato sperimentazioni dentro Second Life, quando c'era Second Life, quindi nel metaverso, nel proto metaverso e anche ha iniziato a fare arte dentro ai videogiochi, facendo fotografie nei videogiochi, quindi insomma già allora sperimentava sulla computer graphics, quindi avevamo avuto questi due momenti di collaborazione con artisti. Quindi voi coprivate anche, sentendo appunto nominare molte volte appunto il Festival di Arts Electronica, Seagraph, quindi voi coprivate anche insomma queste manifestazioni, come dire da inviati sul posto? Sì, normalmente andavamo al Seagraph, a Imaginà e all'Inz, queste erano le tre manifestazioni, un anno a Seagraph avevamo avuto anche lo stand, quindi insomma era stato, e Imaginà l'abbiamo avuto due o tre anni, forse anche di più, andavamo qualche giorno e avevamo lo stand di Virtuele, in modo che chi era interessato poteva abbonarsi, insomma avere informazioni, quindi erano un po' questi tre i momenti più, insomma più importanti. Quindi aveva una distribuzione anche estera o? No, distribuzione estera no, però siccome c'erano molti italiani in realtà che venivano a queste manifestazioni, allora ci consentiva di entrare in relazione con loro e poi comunque di farci conoscere anche da altre riviste straniere, perché a volte ci era capitato anche di tradurre articoli pubblicati da riviste straniere, allora insomma avere dei contatti di questo tipo poteva essere utile per qualche applicazione molto avanzata che veniva appunto dagli Stati Uniti, allora ecco questo era più che altro in quell'ottica. E appunto parlando di distribuzione, quanto, adesso io non so se ti ricordi i numeri o, ma quanto vendeva all'incirca virtual? Quanto era, nel senso, si trovava in tutte le edicole, solo nelle grandi città, non so quanti, era più una cosa da, era più letta diciamo da abbonati o da lettori casuali diciamo? No, allora avevamo parecchi abbonamenti, adesso le cifre esatte non mi sono preparata e non te le so dire, però se mi interessa posso provare a ricostruirle, però sicuramente avevamo un buon numero di abbonamenti e naturalmente non era in tutte le edicole, però era distribuita abbastanza bene, insomma quindi in edicola, almeno in uno, quando ancora c'erano le edicole visto che adesso il problema è che non ci sono più, però si trovava e quindi diciamo soprattutto i primi numeri, visto che era grande la curiosità, erano insomma in alcune città era stato anche tutto esaurito, dopo naturalmente il problema era che comunque la rivista aveva un linguaggio non facilissimo, quindi richiedeva un lettore un po' preparato, un po' insomma diciamo disponibile a cercare di capire anche alcuni concetti che magari non erano immediati, quindi non era fate tutti la realtà virtuale, perché poi cosa è successo in Italia, appunto prima c'era quelle sperimentazioni che venivano soprattutto dall'estero e poi l'aspetto culturale, poi è arrivata l'industria, potremmo dire la cosiddetta industria, sono arrivati i primi italiani che importavano macchine di realtà virtuale dall'estero e le proponevano sul mercato e lì naturalmente per proporre un prodotto del genere devi avere delle applicazioni, dei giochi, quindi c'era insomma c'era anche un po' una una parte più divulgativa e però il nostro il nostro sì naturalmente davamo spazio anche a questo a questo tipo di mercato, avevamo la loro pubblicità, c'era la Atma per esempio questa azienda molto giovane che distribuiva dei sistemi di realtà virtuali inglesi e virtuality, poi c'era la RC Elgra con cui collaborava anche Aaron Brancotti e che proponeva caschi e apparecchi di realtà virtuale, però certamente lì era un pubblico che era veramente incuriosito dalla novità, non è che volesse sapere tutto quello che c'era dentro Virtu, tutte le varie implicazioni culturali, quindi ecco eravamo comunque per un target un po' più preparato culturalmente, quindi alla fine abbiamo un po' selezionato in realtà il nostro pubblico nel tempo. Eh questo è interessante rispetto al pubblico perché dei pochi numeri che sono riuscito a spogliare fisicamente, avevo visto che non so se c'era fin dall'inizio, se è stato introdotto dopo, c'era una sorta di rubrica di cerco-offro-lavoro in ambito diciamo nelle professioni digitali. Ne ho lette un po', è stato un po' interessante, quindi volevo un po' capire, quindi era anche usata diciamo da appunto non so aziende che si stavano costituendo magari non so nei primi anni di internet, nella diffusione di internet o insomma delle cosette tecnologie diciamo multimediali appunto, gli ipertesti, queste cose qui. Quindi veniva usata anche un po' come dire per cercare di mettere, di far incontrare diciamo domanda e offerta? Avevate un po' un po' il polso della situazione, un po' del diciamo del mercato diciamo lavorativo dell'epoca o come mai inserire una cosa del genere? Sì perché in effetti cominciava a esserci un mercato anche come dici tu collegato a internet, collegato a nuove, collegato comunque all'informatica perché poi le richieste e le domande, le offerte di lavoro erano quasi tutte di programmatori, insomma molto legate al mondo informatico, però che magari cercavano una diciamo un tipo di attività più collegato agli aspetti creativi, cioè non volevano programmare un database tipico da diciamo da azienda ma erano più aperti a qualche diciamo sviluppo più creativo e quindi chiedevano, cioè ospitalità in queste pagine dove ospitavamo appunto sia le richieste di chi cercava lavoro che anche però alcune aziende che ci chiedevano di essere appunto di avere uno spazio per richiedere certe figure professionali. Questa rubrica non è iniziata con il primo numero ma è partita dopo quando appunto si è capito che internet era anche un mercato dove c'era quello che poi abbiamo visto ampiamente in seguito, però si cominciava a vedere allora. A posteriori qual è un po' il bilancio di questa di questa avventura? Diciamo sicuramente noi siamo arrivati un po' troppo presto e gli argomenti che trattavamo erano un po' difficili, non erano così di dominio comune come sono oggi e questo ha avuto una ripercussione sulla pubblicità che faticavamo ad avere proprio per questo motivo perché parlavamo di cose che appunto ci sono oggi ma che allora non c'erano, erano idee, progetti o c'erano ma erano rudimentali quindi ancora non avevano un mercato. Quindi questo sguardo sempre un po' in avanti ci ha penalizzato sul fronte della pubblicità però d'altra parte eravamo presenti in quasi tutte le manifestazioni che si organizzavano in Italia su queste tematiche quindi comunque avevamo una comunità di persone che si riferivano a noi su questi fronti cioè su quel crinale un po' un po' sempre difficile da tracciare tra arte, tecnologia, creatività e quindi era un territorio non così affollato allora no? Quindi sicuramente ripeto c'era un problema poi di trovare inserzioni pubblicitari che si rivolgevano a un pubblico ampio però certamente questo ci dava la possibilità di essere presenti dove si dibatteva in tutti i luoghi dove si dibatteva culturalmente di queste tematiche e credo l'impatto a me è successo un episodio curioso un po' di tempo fa stavo assistendo a un corso di formazione per giornalisti e il docente ha chiesto come al solito si chiede la prima lezione la formazione obbligatoria per giornalisti vabbè insomma la prima lezione cosa avete fatto siccome si tratta di un'esperienza molto vecchia non sempre cito virtual però quella volta lì ho detto ma io negli anni 90 ho diretto una rivista che si chiamava virtual pensando vabbè tanto non saprà cos'è adesso glielo devo spiegare il docente si è illuminato mi ha guardato e mi ha detto ma io ero abbonato ho tutti i numeri quindi insomma questo mi ha molto colpito perché questo che è un giornalista molto bravo che si occupa di tecnologia si era formato su negli anni suoi della sua formazione aveva utilizzato questa rivista per cui insomma questo mi ha molto molto colpito credo che come lui altri che adesso in realtà lavorano un po nella tecnologia allora non avevano un altro punto di riferimento in italia perché o leggevi wired oppure ti dovevi prendere le riviste tecniche noi eravamo in quel territorio ripeto intermedio dove chi era curioso e voleva capire che cosa stava succedendo poteva andare e non aveva alternative e quindi come come finisce diciamo virtuale e finisce appunto beh allora nel 95 poi è stata ceduta a un'azienda di multimedialità che allora si chiamava data nord multimedia e che voleva appunto aprirsi un po anche all'editoria cartacea oltre alla produzione multimediale quindi aveva acquisito virtuale perché abbiamo lavorato con loro due anni e mezzo circa tre anni e poi nel 96 scusami nel 96 e poi ripeto il problema della pubblicità è stato quello che ci ha costretti poi a chiudere perché nel frattempo il mercato di internet si stava crescendo però era ancora piuttosto limitato quindi noi avevamo sì la pubblicità dei primi service provider video online grauso naturalmente team avevamo questi però comunque erano ancora realtà molto iniziali ed era ancora tutto insomma un po troppo circoscritto e quindi poi abbiamo chiuso avevamo valutato l'idea di aprire un sito web però poi non l'abbiamo fatto questo secondo me è stato un errore avremmo dovuto farlo quello che mi sembra di capire probabilmente uno appunto dei problemi è il fatto di essere arrivati troppo presto forse che è un po il problema di molti come dire molte persone o realtà che insomma cercano di intravedono delle nuove strade però non percorrerle ma sono talmente sono sono troppo in avance scoperta diciamo che non vengono quasi come dire capiti quando tornano indietro a riferire cosa hanno visto agli altri quindi un po un destino un po crudele però il punto era oggi sarebbe il momento diciamo giusto o siamo addirittura troppo tardi o è una situazione totalmente diversa oggi è una situazione secondo me totalmente diversa però paradossalmente ci sarebbe spazio per una riflessione seria lontana dai sensazionalismi pro o contro sull'impatto della tecnologia sulla nostra vita perché oggi contrariamente al 93 è chiaro che c'è un impatto e che non sempre è positivo cioè noi avevamo una un pregiudizio molto positivo sulla tecnologia cioè allora effettivamente l'idea era che ci avrebbe migliorato la vita ci avrebbe risolto un sacco di problemi cioè internet era straordinario un mondo ma chi l'avrebbe mai pensato un mondo del genere in cui tu puoi chiedere non ho letto questo libro consigliami ditemi quando è stata inventata la tal nella tal il tal prodotto cioè dove avevi veramente questa comunità di persone che si schiamiavano idee che si che si aiutavano ecco oggi sappiamo benissimo che la situazione è molto diversa e quindi credo che ci sarebbe spazio per una riflessione seria sugli aspetti positivi e negativi della tecnologia e penso che che ci sia un pubblico anche che è disponibile a recepirla io come come poi come è andato avanti il mio lavoro alla fine mi sono trovata a concentrarmi sugli aspetti educativi della tecnologia e quindi ho scritto un libro nel 2019 che si intitola dieci ragioni per non regalare lo smartphone alla prima comunione e magari neanche alla cresima e poi ho scritto uno l'anno scorso sulle serie tv su come le serie tv ci cambiano si chiama lo schermo dei desideri però alla fine non è molto diverso da virtual cioè la domanda è sempre queste tecnologie quanto e come ci cambiano oggi è molto più urgente la questione perché vediamo l'impatto insomma adesso ovviamente tutto il dibattito sul ruolo dei social cioè oggi è molto chiaro però allo stesso tempo ci sono sempre questi un po questi due due punti di vista no apocalittici e integrati per cui sempre chi dice che allora basta buttiamo via tutto oppure che invece va bene io penso che ci sia sempre strada per una spazio scusami per una strada intermedia che cerchi veramente di riflettere un po come facevamo noi su virtual cioè di chiedere alle persone che pensano che che realizzano anche in questo campo di spiegare e di far capire meglio a noi che siamo utenti della tecnologia quali sono le implicazioni non so è una cosa che parte da un'osservazione diciamo dello stato della diciamo stampa su questi argomenti o non so è così una riflessione generale no no dallo stato della stampa e del dibattito cioè è un dibattito molto polarizzato per cui adesso sta un po cambiando però fino a poco tempo fa se tu dicevi che eri insomma la tua idea era che fosse necessaria una certa gradualità nell'uso dello smartphone per esempio nell'accesso alla tecnologia eri considerato una specie di luddista retrogrado che non era al passo coi tempi e questo atteggiamento non aiuta nessuno perché in realtà nessuno dice che la tecnologia è da buttare anzi appunto avendo fatto virtuale per me è quello è un mondo straordinario non penso affatto che sia da da eliminare però bisogna cercare di arrivarci preparati perché abbiamo visto che potenza la tecnologia adesso tornando alla realtà virtuale mi è capitato di provare il meta quest neanche l'ultima versione è impressionante il tipo di effetto immersivo che ti dà e il desiderio che tu puoi avere di rimanere in quel mondo quindi benissimo io sono la prima dire che la realtà virtuale è stupenda cioè qualcosa che veramente ci può aprire orizzonti nuovi però bisogna essere preparati cioè avere una capacità critica di avvicinarsi a questo tipo di tecnologie